Ciao da Lucia, un po' di tempo fa vi avevo promesso, avevo promesso alle amiche del gruppo Creando Coluce Franci, di farvi vedere come si fanno i bottoni col filato e l'ausilio magari di qualche altro accessorio per poter fare appunto i bottoni. Siccome settimana prossima, come sempre le amiche sapranno, uscirò con, io speravo questa settimana ma a questo punto non sono più sicurissima uscirò con un progetto che prevede l'uso di un bottone, oggi vi faccio vedere come si fa. Allora, come materiale io sto usando questo che è un semplice annellino in metallo per le tende ed io ho scelto questo per la sua grandezza perché volevo un bottone abbastanza grosso un uncinetto, in questo caso del 4, ed un filato possibilmente sintetico che sia anche abbastanza rigidino così da dare, diciamo, una compattezza, una rigidità a quello che sarà il nostro bottone. Quindi, adesso procederemo insieme con la sua realizzazione. Se non disponete di annellini per le tende, perché ovviamente questo è un rimasuglio, dovevo buttarli e ho deciso di tenerli perché pensavo che mi servissero poi a qualcosa, in commercio ci sono questi annellini di plastica vedete? Io li ho comprati in sacchettini da 10-20, adesso non ricordo con esattezza il numero e anche questi si possono ricoprire per farci bottoni. Se no, potete semplicemente prendere un bottone che non vi piace o qualsiasi cosa io adesso qua vediamo nel mio... ecco qua ho anche questo, però questo mi dispiaceva ricoprirlo perché obiettivamente è bello e mi può servire per qualcos'altro. Comunque c'è sempre qualche bottoncino che magari non ci piace particolarmente e vogliamo ricoprirlo e quindi potete ricoprire quello che volete. Allora, procediamo in questo modo. Io ora appunto ricoprirò il mio anellino perché voglio il bottone di questa grandezza. Quindi andiamo ad iniziare, come dicevo, con il nostro cappietto, faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico e nella prima catenella vado a fare 10 maglie alte, contando anche le 3 catenelle come prima maglie alte. Quindi siamo a 2, 3, 4 e così via fino a 10. Allora, chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio, vado a fare una catenella, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia bassa. Farò una seconda maglia bassa e farò così in ogni maglia alta sottostante, quindi 2 maglie basse su ogni maglia bassa sottostante. Quindi andiamo a creare il nostro primo giro di aumenti in questo modo, 2 in ogni maglia alta sottostante. Ora, dopo il secondo giro, vedete, io appoggio l'anellino sopra al nostro cerchietto ed è della stessa dimensione, quindi cosa faccio? Vado a fare tutto un giro, sempre di maglie basse, ma senza aumenti, perché ci servirà per avvolgere il nostro anellino. Quindi faccio sempre la nostra catenella, entro appunto nella primissima maglia e faccio la prima maglia bassa, dopodiché vado a fare una sola maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante, in questo modo. Già naturalmente il lavoro inizierà a stringere, perché ovviamente non stiamo più facendo aumenti, quindi al termine di questo giro, se inizierà a stringere molto, dovremo inserire già il nostro anellino, prima che stringa troppo e non riusciamo più ad inserirlo. Quindi andiamo avanti fino a fine giro e lo facciamo insieme, tanto ormai sono arrivata in questo modo. Vedete che sta curvando il lavoro, si sta chiudendo, quindi noi al termine di questo giro inseriremo l'anellino. arrivata all'ultimo, sempre concludiamo chiudendo con una maglia bassissima, aspettate perché, eccola qua, è questa, sulla prima maglia di inizio, ecco qua, ecco in questo modo, vedete, si sta curvando. Ora non vado ancora ad inserirlo perché dovrei tenere l'anellino e tenere il lavoro, quindi cosa faccio? Vado una catenella e vado a fare un altro giro senza aumenti, in questo modo, inevitabilmente stringerà ulteriormente perché ovviamente non stiamo più aumentando e quindi andrà avanti a stringere. Facciamo tutto un altro giro senza aumenti e ci vediamo al termine del giro. Ecco come si presenterà il lavoro, vedete? Sta facendo tipo una cupoletta. Benissimo, ora cosa faccio? Inizio a diminuire, quindi faccio la mia catenella, entro nella prima maglia, non la chiudo, entro nella seconda, ho tre anellini, chiudo tutto insieme, in questo modo, di nuovo, entro nella prossima, non la chiudo, entro in quella dopo, ho tre anellini sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, così inizio a fare le mie diminuzioni. Questo proprio il giro. Ecco qui, vedete? Stiamo stringendo, a questo punto dobbiamo infilare l'anellino, altrimenti non lo infileremo più. Allora, facciamo così, togliamo il filo, perché dobbiamo avere comunque manualità e l'uncinetto ci dà fastidio, quindi lo infiliamo così di traverso e lo andiamo a rivestire in questo modo, vedete? Deve un po' tirare, almeno rimane teso. Cosa facciamo? Rinfiliamo, ovviamente, questo è il cappietto, il filo principale, quello che noi abbiamo usato per stringere l'anellino, tenetelo, non cucitelo, lo teniamo proprio fino alla fine, lo faremo uscire dal centro, quindi andiamo a rinfilare il nostro uncinetto e andiamo a fare un altro giro di diminuzioni, quindi adesso rimarrà un po' meno agevole, però riusciamo lo stesso, quindi facciamo la catenella, entriamo nel primo, entriamo nel secondo, tirerà perché l'anellino tira, quindi rimane un po' meno agevole l'entrata, ma non vi preoccupate, ce la si fa tranquillamente, e chiudiamo la prima, entriamo in un'altra, entriamo nella seconda, vedete? forse si fa un pelino fatica, ma vi assicuro che si riesce tranquillamente, fatelo finché riuscite, dopodiché continuiamo con l'ago, siamo dentro a due, tanto oramai sono poche, 1, 2, vedete? ecco qua, mettiamo su, ecco qua, voilà, ok, facciamo l'ultimo perché siamo arrivati quasi all'inizio, 1, 2, qui, vedete? chiudiamo, perfetto, ora io non faccio altro, vedete? adesso stiamo andando non più in cerchio, ma a spirale, cioè entriamo in tutto ciò dove riusciamo a entrare, quindi in ogni maglia dove riusciamo a entrare, se riusciamo a entrare in questa, addirittura siamo nell'ultima, perché vedete? prendo, faccio addirittura così con una maglia bassissima, aspettate però perché ho tirato dentro anche il cappiettino iniziale, se no non riesco a, ecco, sfilarla, in questo modo, io faccio una catenella di sicurezza, in questo modo, tiro, taglio il filo, ecco qua, per sicurezza faccio un nodino, in modo che vado a stringere ulteriormente, ecco qua, faccio il mio nodino, se non mi serve questo filo, semplicemente vado poi a nasconderlo, con l'ago lo nasconderò all'interno, in questo modo, guardate, allora, li prendo addirittura tutte e due, se non mi serve per cucire, perché se mi serve per cucire, li tengo e lo uso per cucire, se non mi serve, entro qui una volta, giusto per fargli fare un nodino, perché non voglio che poi scappino, ecco, entro così, entro di qua, dopodiché, entro per così, lo faccio uscire in un punto qualsiasi, in questo modo, taglio a filo perché sarà all'interno, vedete, l'abbiamo nascosto bene, questo è il retro e questo è il davanti, guardate che bel bottone abbiamo, veramente graziosissimo, io qua ne avevo fatto un altro, scuro, col centro, il classico, la classica cucitura, se poi noi vogliamo un pelino arricchirlo, ma quello assolutamente è a nostro gusto, vi faccio vedere, io qui da qualche parte dovrei avere dei bottoncini piccoli, piccoli, eccoli qua, tipo questi a fiorellino, potrei anche mettere un fiorellino al centro, vedete, viene veramente grazioso, perché poi specialmente sulle magliettine dei bimbi, sulle giacchine dei bimbi viene grazioso, se invece è per noi il bottoncino, possiamo fare come questo, quindi lo cuciamo direttamente col classico incrocio da bottone sopra al nostro progetto, vedete, questo è scuro, questo è chiaro, veramente sono carinissimi, io adesso ho usato questo filato perché appunto era un sintetico un po' rigido e era chiaro e quindi vi potevo far vedere bene come veniva il nostro progetto, veramente carino, se dovete fare, rivestire bottoncini più piccoli, potete fare direttamente a maglia bassa al centro oppure diminuire le maglie d'inizio, quindi io ne ho fatte 10, voi potreste farne anche di meno e quindi diventa più piccolo, io ho voluto fare la parte centrale con le maglie alte perché mi piaceva questa sorta di raggi che poi si vedono al centro, oltretutto qua si vede un po' il ferretto dentro che è più scuro, ma se vado a farlo con i classici anellini sono chiari e non si vede niente, io ho voluto farlo così perché mi piaceva sia la dimensione e ho usato un filato ovviamente chiaro per farvi vedere bene il progetto, però vedete è molto grazioso come bottone, bene io spero di esservi stata utile come spero sempre, vi mando un grosso bacio, mi invito sempre a venirmi a trovare appunto sul gruppo facebook creando con luci franci, ciao ciao da luci!